Non se lo lasciano ripetere due volte, siamo completamente circondati dai legioni della battaglia acrobatica nazionale, non è arrivato per voi, il momento di scegliere il nostro coni preferito è seguito in questo mezzo looping, è seguito da una fondata inversione in volo dritto per la lega velocità, raggiungo della ruota, stabilita e puntata, il centro delle best-re-line, preparata, di nuovo le fotocamere perché saranno nove direzioni diverse, tre livelli verticali di separazione per l'incrocio. Sto molto a fiato della bomba!